Arzelletta di Geppo E' sera, una coppia di altolocati radical chic Si presentano in un ristorante Prendono posto al tavolo A un certo punto si presenta una giovane cameriera E fa buonasera signori e benvenuti Come vogliamo iniziare? Se gira lei con sta faccia Sta brosovovea se la guarda e fa Allora guardi cameriera Noi non mangiamo né latticini, né uova, né carne, né pesce e né glutine Cosa ci consiglia di prendere? Un taxi La sveglia dei gladiatori di dimensione suono rosa